A tutti pace e bene, siamo ancora nel tempo natalizio e la Chiesa oggi 27 di dicembre ci fa festeggiare San Giovanni l'Apostolo, colui che ha scritto un Vangelo, colui che è l'autore dell'Apocalisse, che ci ha lasciato anche tre lettere a suo nome e che troviamo tutto conservato nella Sacra Scrittura, nel Nuovo Testamento. San Giovanni è il discepolo amato dal Signore, è colui che corre incontro al sepolcro vuoto e arriva prima di Pietro e vede la Ressurrezione del Signore, è colui che in modo splendido ci narra che il Verbo era prima del tempo, che il Verbo è venuto nel mondo e che si è fatto carne per la salvezza dell'uomo. Ha l'animo gentile nel colpire nel cuore il sentimento che il cristiano prova nell'accostare la figura del Maestro, di Gesù, del Salvatore. È un giovane che ha dato tutta la sua vita a Cristo, lo ha seguito nei suoi passi terreni, ha affondato tutte le sue mani e il suo cuore dentro il messaggio di Gesù. L'ha diffuso, l'ha messo in pratica, non ha risparmiato fatiche e sofferenze. San Giovanni, l'amato dal Signore, è colui che attraverso la sua parola ci descrive cosa fa un amante per il Signore Gesù, ci descrive come deve essere il nostro amore per il Maestro, per Gesù, per Gesù Cristo il Redentore. Pace e bene. Grazie a tutti.